Ecco allora con Nane io avevo anche subito finito la scuola sono stato anche un periodo con lui che lui insegnava dopo venuto fuori dalla scuola è andato a Udine a insegnare e lui mi ha detto se vado la un po' si sono andato e lui mi preparava il lavoro e io lavoravo facevo quello che lui mi diceva però era una cosa meravigliosa perché arrivare a fare quelle cose che faceva lui io non le facevo però assistevo assistente con Nane durante il lavoro lì poi io ho incominciato a lavorare allora mi ha chiesto andiamo a fare un lavoro se dici siamo andati alla prima volta a Zurich siamo andati in una scuola in una chiesa dove aveva fatto il lavoro la scuola e il mosaico era tutto fatto su carta però arriviamo a capire che il loro su carta è tutto liscio sempre sempre su quella inclinazione se noi invece lo facciamo direttamente lui balla così è praticamente c'è è tutto un altro lavoro no brilla è tutto un altro lavoro quindi abbiamo lì siamo stati tre volte e piccato giù tutto è tornato a fare direttamente lì sul suo posto era un bel lavoro e poi e poi siamo andati a reggio calabria a villa san giovanni in una scuola elementare che gli ha dato si è passato di gaina il disegno e noi siamo andati da farlo direttamente per terra si è stata una bella esperienza anche quella lì no è importante è stato il comune no aveva fatto il palazzo di sopra abbiamo fatto uguale quello che era prima la sala consigliare e le sale sopra poi all'entrata invece abbiamo fatto l'esperienza del del codolato si dovrebbe chiamare però è quello piccolino con una volta li mettevano giù così no vedo in giro io ma quello li ha messo 11 veramente bene se uno si intende va a vedere dice però mi hanno chiesto tanti di farlo sapete con quanto viene a costare fare quel lavoro lì capito